bella a tutti i free readers oggi monta la polemica cannabis serremo questo binomio che ovviamente la politica italiana non vuole che sia assolutamente possibile perché vogliamo mai paragonare il posto il regno della canzone italiana dei fiori con il migliore dei fiori nel mondo assolutamente no questo è dietatissimo e la politica si scandalizza per questo ovviamente infatti monta questa polemica perché perché ieri ornella muti insieme alla figlia nike hanno pubblicato su instagram su social netto su loro profili faranno un po quello che credono una bellissima foto con dei ciondoli con il logo con la foglia della marijuana della cannabis della canapa questo fiore questa pianta odiatissima della politica italiana e questo ha scatenato delle reazioni incredibili in tutti i politici soprattutto quelli contrari in realtà perché perché ornella muti stasera presenterà il festival di sanremo insieme a fiorello amadeus e dunque non può mai essere correlata a questa situazione alla cannabis e alla liberalizzazione sia mai che un evento di questa portata possa spingere un tema politico importante e rilevante per quasi tutta la cittadinanza questo non deve essere fatto e infatti fratelli italia ha sottolineato questo chi mai se non fratelli italia il deputato federico mollicone che è commissario della vigilanza rai e la deputata bellucci che anche lei è nella commissione affari sociali del parlamento hanno detto no questo non va fatto non si può fare perché figuriamoci se è importante parlare di una tematica importante di un referendum che ci sarà alle porte non si può nemmeno fare riferimento ma non solo nella serata di sanremo ma nemmeno i protagonisti di queste serate devono farlo sui loro social network privati non possono parlare non devono parlare di questa tematica questo è fuori dal normale totalmente assurdo come se le battute allora che si fanno vanno bene mentre se invece si parla di una tematica importante serissima no vabbè pensate in tutto questo ha voluto dire la sua anche il l'ex ormai senatore carlo giovanardi indimenticabile indimenticato e soprattutto figuriamoci se non voleva dire anche lui che questa cosa è ingiusta che non va bene non si può parlare di queste tematiche perché i giovani di qua e di là e di su e di giù sapete benissimo già come la pensa e quanto fa un po sorridere questo pensiero fortunatamente questa tematica invece che essere stata così messa di nascosto e allontanata sta rilanciata anche da un cantante parteciperà a questo festival dargen d'amico infatti si è presentato sul red carpet di sanremo con pensate pensate che scandalo dei calzini con il logo della foglia della cannabis la pianta proibita la pianta illegale e questo è uno scandalo nazionale tant'è che sono pieni giornali di questa situazione sono i calzini i calzini alla cannabis gli orecchini con la foglia sia mai che si parli di liberalizzare la cannabis perché no perché di qua perché di su ma dai ma ma veramente siamo ancora in questo tipo di paese ebbene sì siamo ancora in questo paese io invece mi auguro che qualcuno vada al festival e si accende un bel cannone in diretta nazionale se non li fanno fumare sul sul palco un bel diciamo vaporizzatore così una pennetta thc bella pulita bella tranquilla e bella divertente perché non ne possiamo più di questo stigma ridicolo nei confronti di una cosa che non fa niente di nulla di zero avete veramente stancato ci avete sfinito ci auguriamo che si arrivi veramente presto al referendum e veramente presto crollino queste situazioni questi stigma perché fanno veramente veramente schifo bella free readers fatemi sapere cosa ne pensate fino a libertà